Lunedì 15 novembre alle 11 al Teatro Verdi, il rettore Gavino Mariotti aprirà ufficialmente il 460esimo anno accademico dell'Università degli Studi di Sassari. All'evento parteciperanno la Presidente del Senato Casellati, il Presidente della Regione Cristian Solinas e il Critico Vittorio Sgarbi. Nel corso della cerimonia verrà conferita la laurea honoris causa in lettere, filologia moderna e industria culturale all'artista Elio Pulli. Tra i numerosi presenti la cantante Maria Giovanna Cherchi accompagnata al piano dal maestro Maurizio Bizzarro, i tenores di Bitti, il coro dell'Università di Sassari e l'Associazione Goliardica Turritana. L'ingresso con Green Pass è consentito agli invitati e alla stampa accreditata ma la manifestazione può essere seguita in diretta streaming sul sito www.unis.it.